Oh, ciao a tutti ragazzi sono Epitiri per oggi siamo in una nuova serie su Black Ops 3 Siamo bensì in una nuova serie suggerita da il video del tubo il quale ci dice di fare delle sfide per ogni episodio Queste sfide consistono nel fare uccisioni con soltanto un determinato tipo di arma Il quale ho in questo primo episodio deciso io che è la pistola MR6 Per quanto riguarda i prossimi episodi di questa serie chiedo a voi di dirmi che arma utilizzare Ditemi esattamente una classe e io utilizzerò soltanto quella Ovviamente in questo primo episodio visto che mi avete soltanto suggerito la serie vista alla fine del root commander nello scorso episodio Ho deciso di farmi una classe iniziale che è l'MR6 con estazione rapida e poi i perk come potete vedere li ho scelti io Ho messo il Reaper come specialista visto che è quello con cui mi sto trovando meglio ultimamente Vi dico subito che questa è la prima partita di oggi quindi è possibile che non sia così tanto fresca e che non sia così bravo Tra l'altro questa mappa non è per niente data l'MR6 ma visto che non ho trovato altre lobby Ho deciso di adattarmi e di mettermi in questa lobby nonostante la 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 Eh si già diventiamo dislessici nonostante l'arma non fosse adeguata Allora visto che non so per quale motivo strano mi sta sudando il pollice E fuori fa freddo Voglio vedere di utilizzare un attimo Bene la modalità tattica del mio controller Visto che io gioco in modalità tattica ragazzi Alcuni di voi me l'hanno chiesto il gioco con l'impostazione del controller tattica e la sensibilità 8 verticale e 8 orizzontale A chiunque interessasse Allora adesso qui siamo un po' circondati dai nostri nemici ne sento un po' Spuzzano un po' quindi li riesco anche adorare più che sentire Sono sicuro che uno di loro è silenziato perché l'ho visto prima Tra l'altro ragazzi vi avviso che il prossimo commento arriva in nuova serie coperta anche questa Allora su Black Ops 3 sarà da parte del nerd ovvero questa voce qua Tra l'altro mi sembra di aver notato che ci sono delle persone cuffiate nell'altra squadra Questa pistola ragazzi non è male devo dirvelo Però non mi piacciono le pistole Cioè proprio principalmente per come sparano su Black Ops 3 Cioè c'è una pistola fortissima Ovvero la Elkar 9 che è tipo una mitraglietta Però è quella lì è forte Cioè queste qua tipo l'RK5 e l'MR6 non mi piacciono nonostante siano decenti Ma qui ce n'è uno Più di uno Ok l'altro ha tirato giù il nostro compagno Grande compagno Vorrei evitare di fare pausa di silenzio Vabbè 3-1 adesso siamo un po' in... No di vero non siamo in pochi Abbiamo cominciato con pochi ma siamo iniettati un po' tanti Allora di qua ce n'è uno Compagno No 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 compagno non la mando neanche Vabbè gli ha tolto tutta vita meglio per noi Un po' di pulizia di piastrine Infatti ci ha abbracciato la medaglia pulizia E anche a dirlo Non gioco spesso se è ucciso di una conferramatta Quindi se vedete un po' che non me la cavo con gli spuoni per questo No quello lì è troppo lontano per noi con una pistola di questo tipo Con la LLK9 l'avrei pure tirato giù Perché è una pistola molto buona Non ha una grandissima portata Perché essendo una pistola ovvero un'arma secondaria di portata È raro che ne abbiano molta le pistole secondarie Ma comunque se la cava abbastanza bene per la sua classe Allora contatta Puobi intanto Se riuscissi a chiamare l'hater con... Quello sta cercando di glitchare Che schifo Non ti fa schifo Non è la mia precisione Buongiorno a te qui amico mio sott'acqua Siamo Waterman Tra l'altro ragazzi non so Datemi anche delle sfide tipo Fai un episodio giocando solo in acqua Facendo kill sott'acqua Cosa è così Io le faccio molto volentieri Se me le offrite a voi le faccio molto volentieri Grande sta pistolina Credo fosse così utile Ne sento uno Nah ci ho ucciso Ho 235 punti dal Dall'hater Ma va bene dai Tanto il mio obiettivo non è l'hater Cerco di fare più che altro Un buon risultato Attenzione lo uccide Lo minaccia Cosa è caso Non faccio voci strane Tipo vabbè scivio Dai ci può anche stare Però non faccio tipo topolino Cosa così Perché avendo preso freddo oggi Ho paura di prendermi un brutto mal di bola E facendo le voci non miglioro la mia condizione Che già non è proprio ottimo Uno doppietta a caso Ciao qui Dov'è? Oh 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 no no Lasciamolo stare Che è un po' Che è un po' cattivo E infatti è cattivissimo Non devo fare il coglione Allora i nostri avversari non suono male A dire i primi due 9-3 E 12-5 Non devo fare queste stranzate Però noi siamo 11-3 Quindi Quindi stiamo usando soltanto una pistola Vorrei ricordare Allora lì ce n'è uno Molto brutto No compagno vai Passa tu Zona il mondo gentile Mamma mia La testa come te è partita amico Guardi qua c'è una nostra Chi si chiama Le torrette Ma veramente Cioè io credo che le torrette Siano una delle robe da più Da camper Più brutte Ma è messa su calo No Ne ha Ne ha quello in acqua Chi è che tira le granate? Genio Ah ma funziona? Buono non mi hai provato So soltanto che il lanciafiamme Sott'acqua funziona Non benissimo ma funziona Sono qua in fondo No Eccolo lì Peppe No Pepe Pepe 90 Grande Pepe No Io nessuno a posto I wanna see where they are 3 Mamma mia Se lo ammazzo da questa distanza Cosa è? Si Se lo ammazzo da questa distanza Non prendo altre armi Perché la sfida Effettivamente è fare soltanto La Uccisione con La pistola Quindi vorrei fare Uccisione soltanto con pistola Tra l'altro se guardate Mi sono messo Appunto Degli specialisti Che sono Nei non degli specialisti Delle abilità tattiche Più che altro Ovvero non Non serie di uccisioni Che effettivamente Fanno uccisioni Madonna Sta pistola Quanto Ha poco digittata però Vabbè Fa niente La serie ho deciso di chiamarla Ept challenge Non so se l'ho già detto Ma mi sembra di si Ept challenge Da giusto per E che qui sono Due Madonna Mi odio sta pistola Cioè è forte Per l'amor di Dio Non fra intende dire che Per essere forte è forte Però Veramente mi sta troppo sulle palle Sì ci sei Addirittura il ciuccio ciuccio Mamma mia Dopo si chiama T-bag Però va bene Sai che non gli com'è farlo Allora Qui ho preso una pistola secondaria Non so perché è una roba Che faccio di solito Ma tanto non la utilizzerò No Vedi qui Non mi piace Camperall Allora gli spawn Visto che siamo un po' messi così Ce ne dovrebbe essere Uno lì Visto che era un preciso E gli altri non lo so E' vero Oh 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 Schifoso camper Ciao Peppe Partiglieria distrutta Peppe Scusate Lì si chiama Peppe Qui sembra essere Ce n'è uno Si ce n'è uno Non sembra Attenzione doppia Glielo vuole dire così Li minaccia Telepronata a casa Mamma mia Amico mio la macchina da guerra Dei saperla utilizzare Però prima di metterle Ho tirato l'UAV e il contraattacco Che non gli fanno mai Questo di Nave Raps Questo si è trovato la Nave Raps La lancio di rifornimento Vergognati L'altro di rifornimento Lancio di rifornimento Un'altra roba Lì ce n'è uno fermo U.A.V. 50% di autonomia Deppi Far mal di lui Non ce ne so Dai 135 punti All'hater Spero mi si senta Non dovrei aver mutato Il microfono Però Non si sa mai Scusate se soffiato Il microfono Ma si Mi si dovrebbe sentire Mamma mia Un colpo Dai 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 85 punti Un assist Dai Devo soltanto Ucciderne uno No Mi sento i Raps E infatti Ci sono 25 punti Vi prego Fatemi fare Sì 25 punti Qua c'è un Raps Qua c'è un Raps Vai Beccatevi Later Ah Da uno con la pistola Ma io mi vergognerei Ma qui c'è uno con la pistola Sott'acqua Che sono io Scusate il momento di silenzio Ma Se ci sono nemici così a caso Li voglio cercare Non voglio farmi seccare No No Non ti bloccare nei sassi Eh si compagno Specialista del caput Oh lì ce n'è uno Sicuro che ci sta venendo a cercare Infatti eccolo Pepp Sempre lui Vabbè Ha solo fatto una mimetica Per la pistola Addirittura Eh vabbè Psicosi del caput Mi piace troppo la parola caput Non so perché Mi sa che tra l'altro In tedesco vuol dire qualcosa Tipo caput Non lo so Credo di sì Oh qui ce n'è uno Un po' sgusciante Attenzione lo vogliamo accoltellare No vabbè È soltanto a pistola Le luce di misura Qui qua dov'è il silenziato Che Pepp Mi sta un po' antipatico Visto che c'è il silenziatore L'ha seccato Sì l'ha seccato Via Qua c'è un altro Sbam No non c'è Fonati dietro Sì probabile Neghiamo gli uccisioni No no Un po' scemo 31-8 Dai mi aspettavo di peggio Onestamente Visto che con la pistola È raro che ci gioco Prima partita di oggi Su sta mappa Mi sarei aspettato veramente di peggio Madonna Quello lì con l'M8-1 Un po' scarto Va bene che l'M8-1 Non è un'arma più forte del gioco Però Cioè Mico neanche tu Prima utilizzala Allora Sao che è quella che Ogni volta che tiro fuori il menu Dell'uccisioni Mi dà fastidio Quindi Tecnico a terra Tecnico a terra Madonna C'è ancora il rinculo Sta pistola Vabbè Non dico che le armi Non debbano aver rinculo Però ne ho un po' troppo Sta pistolina Per essere Una pistolina Dalla cadenza Modesta Comunque Guardate chi piglia L'hcxd Ogni cosa che esplode Piglia me L'avevo pure sentito Adesso dovrebbero spawnare Di qua Tecnicamente Se Non sono troppo stupido Quindi si Non spawneranno di qua Perché sono troppo stupido Però Noi diamo un'occhiata comunque L'avevo sentito L'avevo sentito 32-10 Era il ratio di 3.2 Ragazzi Tra l'altro Se volete dopo Vi faccio vedere le statistiche In un altro episodio Cose così Siamo agli sgoccioli Sgoccioli Lezzi Allora Questo l'abbiamo seccato Qui Ci tirano un po' di granate No vabbè Non è rifermo Eccolo lì Come giochi bene Nuka build 27-12 Giocando così Un po' schifo Un po' schifo E' schifo E' schifo Allora La partita sta finendo Il compagno Sta morendo Vabbè Non abbiamo fatto la kicka Ragazzi Tra l'altro Se guardate Luca build Quella uccisina Fatta con l'Lcar 9 Pistola molto Molto forte Comunque spero che questo Primo episodio della serie Vi sia piaciuto Non vi ci è piaciuto Onestamente spero che Possiate consigliarmi Delle classe decenti E vi auguro Comunque una buona giornata Una buona serata E ci vediamo nel prossimo video Della serie Spero che vi sia piaciuto Onestamente Cribbio buono un giorno E ci vediamo nel prossimo video